Bene, buonasera a tutti e tutte, benvenute e benvenuti al primo appuntamento della carovana ambientale per la salute dei territori. Vi ruberò davvero pochissimi istanti perché è un appuntamento molto ricco, questa sera l'appuntamento prevede una discussione ad ampio raggio, ad ampio respiro, una tavola rotonda con le varie realtà ambientali che si muovono, che lavorano, che fanno resistenza nei nostri territori. Ma prima di addentrarci nella discussione più regionale e territoriale vorremmo introdurre con Vincenzo, a cui diamo il benvenuto, Vincenzo del comitato Notav Valsusa. Ciao Vincenzo. Ciao tutti e tutte. Vogliamo introdurre il senso di questa carovana. Io parto da una considerazione, intanto parto da una cosa bella perché finalmente dopo due giorni intensi possiamo riabbracciare in questo festival il nostro compagno Andrea, Andrea Coldi che era stato fermato e arrestato alla manifestazione contro il G20 e la finanza che c'è stata sabato a Venezia e intanto facciamo un applauso per Andrea che credo è un compagno generoso e credo che proprio dal G20 di Venezia dovremmo partire per inquadrare questa carovana e i suoi obiettivi perché è stata una giornata importante, una giornata che idealmente tra l'altro è l'inizio di questa carovana e questo percorso che poi ce lo spiegherà bene Vincenzo, è un percorso sdoppiato, avrà una sua parte nel nord dell'Italia, nord e centro dell'Italia, un'altra a sud, ci porterà da un lato in Val di Susa e da un altro lato al G20 per l'ambiente che si terrà a Napoli il 21 e il 22 di luglio. Il G20 di Venezia è stata una tappa importante, tra l'altro la questione ambientale, la questione ecologica era una delle gambe principali che sostenevano il percorso di We Are The Tide insieme a quello transfeminista, insieme ovviamente a quello sul reddito, però questo ci fa capire quanto il tema ecologico non possa essere trattato in maniera separata dal resto delle lotte, dal resto delle esigenze, dal resto delle considerazioni che dobbiamo e possiamo fare in una situazione in cui la stessa pandemia ci ha messo di fronte alcune connessioni che probabilmente erano inedite prima, una pandemia che lo sappiamo è nata da un fattore ambientale, è nata da uno spillover legato proprio alla degradazione e alla continua estrazione di valore che viene fatta sulla natura e poi si è trasformata in un problema di ordine sanitario, un problema di ordine sociale, economico e politico, quindi queste connessioni sono estremamente evidenti nel momento in cui soprattutto in questa carovana parliamo di salute e ambiente. Leggo, cito, un passaggio del comunicato stampa di questa carovana che dice che sostanzialmente per connettere questi territori ci muoviamo su un duplice crinale, uno è appunto connettere le forme di denuncia, quello che ci sta succedendo in questi territori, dopo approfondiremo il passaggio sul Veneto, ma credo che in ogni territorio è sottoposto a dinamiche di estrazione di valore molto molto violenta. L'estrattivismo, questo è uno dei temi, non può essere più considerato come qualcosa legato al, passatemi il termine, ovviamente terzo mondo, all'America Latina, all'Africa, l'estrattivismo è presente all'interno delle nostre vite, all'interno dei nostri territori. Quindi il primo tema è proprio come connettere queste forme di denuncia continua, ma soprattutto bisogna connettere le lotte. Questo è, credo, il tema principale di questa carovana, gli obiettivi principali di questa carovana. Io vi lascio e chiederei a Vincenzo di introdurci anche i percorsi sia politici sia geografici, questa mappatura che andiamo a fare con l'obiettivo appunto di riconnettere lotte, saperi e proposte.